Southward as you go Le nostre ispirazioni sono la musica dei anni 50, Motown, Memphis, anni 60, Chuck Berry, Elvis Presley, allora tutto che ci sta dentro la storia della musica è importantissima, avere la cultura, la tradizione, allora è importantissimo anche il passato per rendere il presente possibile nel mondo della musica. Cantante, musicista, intrattenitore, imprenditore ed esperto di cibo e produttore di vini, proprio grazie ai vini e all'amicizia con i Negrita, il legame con Arezzo. Ma comunque passo spessissimo in questa zona, la Toscana ha sempre fatto parte della mia storia ovviamente nel mondo di vino e cibo, però particolarmente i miei amici di un gruppo molto famoso che vivono qui, che vengo a trovarli tante volte, che non si nominiamo perché ho visto anche il loro tour oggi in Negrita, Allora sono qui abbastanza spesso a vedere amici, fare musica e apprezzare questo posto meraviglioso. Dal 12 agosto le strade di Castiglion Fiorentino tornano indietro nel tempo negli anni 50 e 60, trasformando il borgo nel centro più americano di tutta la vallata. Quattro giorni intensi che trasformeranno la nostra città in una città piena di musica, di intrattenimento, market vintage e tanto buon divertimento.